Appuntamento venerdì 5 aprile con una serata dedicata ai giovani concertisti dei conservatori della Sardegna. Una vetrina artistica molto attesa con programmi studiati per dare risalto alla capacità degli esecutori. L'esibizione parte dalla rassegna ai grandi interpreti organizzata da Teatro Musica, porta sul palco del Verdi, in rappresentanza del Conservatorio di Cagliari, Federico Battista Melis, diplomato con 110 e lode, menzione speciale, sotto la guida dell'insegnante Gabriella Mereu. Melis si è esibito in numerose rassegne concertistiche e ha ottenuto primi premi in concorsi nazionali ed internazionali. In questa occasione presenta la suonata numero 3, opera 58, di Chopin. A rappresentare il Conservatorio Canepa sarà invece il Jazz Ensemble, formazione nata all'interno dei corsi accademici di jazz del Conservatorio Canepa. Trovandosi spesso coinvolti nella preparazione dei rispettivi esami e tesi di laurea, cinque componenti hanno saputo amalgamare le proprie sensibilità musicali per la creazione di un sound deciso, fresco e originale, che trae origine dal linguaggio comune del mainstream fino a spaziare verso stili più moderni, quali la bossa nova, l'hard bop e la fusion. L'ensemble è formato da Marco Maltalenti, Saverio Zura, Marco Bande, Iana Rarais, Paoletto Secchi. In programma i brani Tom, La Danza del Capodoglio, Almost Blues, Stable Mates e Love for Sale. Grazie a tutti.